Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Caroline Smith è una ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, a cui partecipa in qualità di giudice dal 2007. Alle volte mi chiedo perché questo calvario è capitato proprio a me. Così Caroline Smith ha parlato di recente della malattia e il tumore al seno che è tornato a mettere a rischio la sua vita. La coreografa inglese è ritornata dietro al bancone dei giudici di Ballando con le stelle, ma mentre il pubblico la vede alzare le pellet e dare giudizi, con il sorriso sul volto, nel privato lei combatte l'ennesima battaglia contro il cancro. Il tumore è ricomparso sempre nello stesso posto, ha rivelato Caroline Smith a settimana leggente.